Marco vinciamo, sentami So hard to leave you all alone We get so drunk that we can hardly see What used to that to you or me, baby You see, I notice nothing makes you shatter, no, no You're a lover of the wild and a joker of the heart But are you mine? I wanna make you happy I wanna make you feel alive Let me make you happy I wanna make you feel alive last night I wanna make you happy You were a good girl tonight I used to do something like there's no race When I'm unhappy, I'm in disgrace So I spend time with you, someone new Oh, you're a lover of the wild and a joker of the heart But are you mine? I wanna make you happy I wanna make you feel alive Let me make you happy I wanna make you feel alive last night I wanna make you happy But you were a good girl tonight Yeah! Yeah! La stela è riferimento per l'intero paese per la liberazione da Berlusconi La stela è riferimento per l'intero paese 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 per l'inter tutti quanti il futuro Presidente della Legione Molise. Noi lavoriamo e vi proponiamo la candidatura di Fortuna, perché ci crediamo e crediamo che nell'innovazione, nella novità, nella freschezza. Anche in Molise, sotto la cenere del consenso alla destra, cova la brace della domanda di cambiamento. Sostegno a Paolo di tutti i partiti della coalizione. Forza, liberate Molise e libereremo l'Italia. Perchè il nostro paese sta così in l'Ottomale? Deve venire una parola di riscosa, che venga sentita in tutto il paese. Cercare di mettere in campo la destra cancellando Berlusconi, appunto un gioco da illusionista. Qui Berlusconi c'è ma non si è bene, è come lo spirito santo. Perchè il Polizia si rivolta ai falliti? Domanda, ma tu di Anferre stiamo fallito? La stessa gente, ma solo, viene bella di, ma mica sono scelte, dai. Perchè il Polizia si rivolta ai falliti? E da questa piccola e meravigliosa regione può venire la Siltini, sì, che è la rivoluzione d'Ottomale di cui parlava Paolo. Ma io mi ribello a tutto questo. Perchè il tempo di dire è un uomo che è capace, che ha competenze, che ha professionalità, che ha mani pulite, perché di questi tempi... Un grazie perché la rivoluzione di ottobre la faremo in Molise con un voto libero, con un voto di liberazione.